Ehm, facci un applauso per sempre, vediamo quale suona. C'ho un po' canale, eh. Sbuffare me? Ma in realtà ci siamo, di sei e mezzanotte noi, facciamo così. No, la cosa è molto simpatica perché effettivamente, insomma... Dicono quanti secondi mancano, trenta? Dieci? Dieci. Iniziamo da dieci, ora? Ok, allora, va bene, non c'è la Limpia però. Siete pronti? Dieci. Nove. Otto. Siete. Sei. Cinco. Quattro. Tre. Due. Uno. Buon anno a tutti! Buon anno di cuore a tutti quanti, amici. benissimo. Grazie. Buon anno di cuore. Buon anno di cuore? Buon anno di cuore a tutti, amici. Buon anno di cuore. E quindi, a te. Buon literacy... Grazie a tutti e vi ringraziamo soprattutto a voi che siete tantissimi qui questa sera per eseggiare insieme questo nuovo anno 2015. Grazie a tutti e vi ringrazio. Grazie a tutti e vi ringrazio. Grazie a tutti e vi ringrazio.